Tutelare i tracciati che vedono queste antichissime vie scendere dalle nostre montagne alle pianure ogni autunno, ogni cambio di stagione, queste mandri e queste greggi che si muovono fa parte della nostra identità, della nostra storia. Quindi come Regione Veneto abbiamo intenzione di tutelare i tracciati e le possibilità comunque di mantenere questo tipo di attività anche perché veramente chi lo fa riesce a mantenere zone di montagna controllate dall'uomo coltivate o a pascolo e comunque appunto con una presenza umana che serve anche all'ambiente, al paesaggio, alla natura. Una cosa appunto che assieme alle associazioni di categoria stiamo mettendo in moto perché allevatori, legislatori insieme possono fare grandi cose per questa tradizione. Il lupo è un problema assolutamente presente e veramente anche che crea deterrenza a fare attività in alta montagna. In Comitato delle Regioni proprio in queste ore si sta approvando l'inizio di un percorso, di una risoluzione che poi manderemo in Commissione Europea perché ci siano sicuramente le tutele del lupo dove il lupo può adattarsi e dove può vivere. Nelle zone fortemente antropizzate il lupo va controllato, va contenuto e non può essere un fattore di allarme e di danno a chi fa attività in zone non facili da utilizzare e da abitare. Si tratta di un progetto di legge di 13 articoli che va a censire, valorizzare e gestire tutto il patrimonio armentizio che abbiamo per permettere ai malgari ma anche a chi pratica l'attività di pastorizia di poter condurre le mandri in montagna senza avere difficoltà da parte dei comuni quindi quello che noi puntiamo è un censimento, una valorizzazione del patrimonio esistente in modo da poter permettere questa importante attività economica sulle nostre montagne. Penso che il vero valore aggiunto della transumanza e delle donne in alta montagna penso che sia un valore inestimabile per tutta la nostra territorialità e quale migliore cosa poter mantenere questa presenza viva sui nostri territori perché mantengono il territorio stesso intatto e veramente protetto da questa avversità. Se non ci fosse stata un'agricoltura fatta bene e seria forse le inondazioni che ci sono state sia nel Bellunese che in Asiago avrebbero potuto gravare in maniera importante su quello che è anche la vita umana quindi la condizione agricola è fondamentale per il nostro territorio e per la salvaguardia anche della vita umana. Un appello che oggi vogliamo dare è quello della solidarietà quindi comperate Bellunese, comperate e naturalmente adottate anche un albero perché questo penso che sia un pensiero per Natale importante per dare valore e reddito anche a queste famiglie che sono veramente in bisogno. Una proposta di legge che va nella direzione di ripristinare le vie dei pascoli che guarda la transumanza, un valore storico e culturale che va ripristinato sia per le nostre imprese ma anche per un valore turistico e di folklore del nostro territorio. Grazie a tutti!